primo gennaio duemilaventidue siamo a pianeta ed ecco il caro collega ci sto riprendendo siamo a scafa tra un po prendiamo a sinistra per san valentino in abruzzo citerlione mi trovo in località san valentino in abruzzo citerlione ciao 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 davide ciao ciao poco fa ho ricevuto una videochiamata da mio figlio francesco è stata una bella sorpresa ok allora a più tardi adesso proseguo per caramanico ecco davanti a noi caramanico ciao ciao Grazie a tutti. Valle dell'Orfento, ecco il ponte di Caramanico, la Valle dell'Orfento. A sinistra le terme, le terme di Caramanico che però sono chiuse. A sinistra le terme che però sono chiuse. Siamo arrivati al centro di Caramanico. Allora, siamo a Caramanico, adesso ci andiamo a prendere un bel caffè a qualche parte. Di là c'è l'isola pedonale. E' un bel caffè. E' un bel caffè. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.